Iniziativa importante, oltre che interessante. Si parte da un'associazione benemerita di un gigante del nostro mondo, Marcello Marchioni, che la presiede, che è quella dell'educazione fisica e attività sportiva, che si è agganciata al Comitato di Storia dello Sport. Credo che oramai con questa parola, questo mondo, lo sport è definitivamente entrato nella vita, nella casa di tutti. Ovviamente ci sono attenzioni e sensibilità, mondi che lo possono interpretare meglio o meno bene, però noi stiamo facendo un grande sforzo per spiegare quanto è fondamentale sia a livello agonistico, sia a livello della pratica per tutti, sia a livello sociale, sia a livello anche economico, perché quello che può dare allo sport in beneficio al sistema, anche in termini di risparmio, di sanità pubblica, di spesa, è veramente molto importante. Mi avete chiesto di fare un commento su Fiorentina-Roma, arriva la prima, mi sembra, con la seconda del campionato, quindi direi bene. Ho scherzato dicendo che può uscire fuori un pareggio, però mi hanno detto che qui a Firenze non si accontentano, va bene così.